Vuoi proteggere il tuo gatto? Vaccinalo! I vaccini principali per il tuo gatto sono tre, racchiusi dentro un unico siero, il cosiddetto vaccino trivalente, che protegge il tuo animale da tutte le patologie più diffuse, rinotracheite felina, causata da herpes virus, calici virosi, che causa patologie dell'apparato respiratorio, e panleucopenia, che causa sintomi gastroenterici, anche abbastanza gravi. Secondo le linee guida attuali SAVA, la vaccinazione va effettuata entro i due mesi di vita del gattino. Nei soggetti outdoor e in quelli non sterilizzati, nel caso in cui il gatto risulti negativo al test, è consigliato anche il vaccino FELV contro la lucemia felina, 21 giorni dopo il richiamo del trivalente. Entrambi i vaccini prevedono un richiamo dopo 21 giorni, successivamente un richiamo annuale, e dopodiché un richiamo ogni tre anni. Grazie a tutti!